Posso dire che in tutte le cose si ottengono sempre attraverso il lavoro. Quindi il nostro obiettivo primario è la Supercoppa, che è la prima, e poi naturalmente è il raggiungimento del terzo scudetto. Nella Champions sappiamo che siamo una grande squadra, ma in Europa ci sono anche grandissime altre squadre. Quindi la competizione è magari ancora un po' più alta. Cerchiamo sin da oggi di lavorare con costanza, arrivando pronti alla competizione. Io guardo sempre il presente e il futuro. Non mi ritengo traditore perché ho sempre sottolineato il fatto che siamo professionisti. Se posso dire il mio cuore viene legato al calcio. Il calcio viene praticato in ogni parte del mondo. Io penso che ogni giocatore possa ambire al massimo i livelli. Io penso che la Juve oggi in Italia sia una delle migliori. Quindi la mia scelta non è perché ho voluto tradire, ma è perché l'ambizione che mi porta a fare tutto ciò.